Musica Ben ritrovati cari amici telespettatori in primo piano la cronaca non è ancora stato chiarito Il movente dell'omicidio è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì all'Hotel Londra di Alessandria dove è stato ucciso il portiere di notte Alberto Faravelli di 69 anni Stefania Sandri che è l'avvocato del presunto omicida dice che il suo assistito avrebbe agito in un momento di raptus Ma sentiamo meglio da Cristiana Zanetto Giuseppe Proietto Aiello, l'uomo di 46 anni che ha confessato di aver ucciso Alberto Faravelli il portiere di notte dell'Hotel Londra si trova in carcere ad Alessandria e su quanto sia veramente accaduto quella notte ci sono ancora moltissimi punti interrogativi che lui stesso non ha ancora chiarito Secondo le prime informazioni Aiello che si trovava ospite dell'Hotel Alessandrino già dal pomeriggio di domenica è un uomo che non possiede una residenza fissa La domanda su che cosa ci facesse in un albergo a quattro stelle sorge dunque spontanea Nella stanza che aveva prenotato ci sono ancora i suoi vestiti Che cosa sia accaduto dunque in quel lasso di tempo tra il pomeriggio e la notte tanto da far perdere la lucidità ad Aiello e a spingerlo ad uccidere non è per nulla chiaro L'uomo ha dei precedenti penali ma non legati ad atti così efferrati Alberto Faravelli la vittima era conosciuta da tutti per essere un uomo gentile e sempre attento a confermarlo anche la proprietaria dell'albergo in cui Faravelli lavorava da oltre 15 anni Alberto Faravelli che abitava a Tortona da solo dopo la morte della madre avvenuta nel dicembre scorso era conosciuto da tanti a Tortona per la sua passione per la musica Da piccola aveva partecipato anche ad un quiz condotto da Mike Bongiorno e aveva vinto un viaggio a Disneyland Poi le sue velleità di musicista si erano fermate A dicembre di quest'anno sarebbe andato in pensione Aveva 69 anni Le indagini condotte dai carabinieri del comando di Alessandria dovranno chiarire molti punti rimasti ancora in sospeso In giornata potrebbe già essere fissata l'udienza di convalida dell'arresto E' morto Gianni Bernini, insegnante, batterista, protagonista in molti concerti ed eventi benefici ad Alessandria Nel dicembre dello scorso anno era stato ricoverato per le gravi ustioni riportate nel tentativo di salvare la collega Monica Prendin Bernini è rimasta imprigionata nell'alloggio di Piazza Turati, sede anche della scuola di musica Nel quale si era sprigionato un incendio e a causa del quale la Prendin aveva perso la vita Bernini è deceduto in ospedale nel reparto di terapia intensiva Dopo che nel febbraio scorso era stato ricoverato per un infarto dal quale sembrava essersi recuperato E c'è stato anche un grave incidente questa mattina sulla A21 poco dopo Alessandria in direzione Piacenza Un mezzo pesante per cause ancora da appurare si è ribaltato L'autista è stato trasportato in pronto soccorso in codice rosso ad Alessandria Cambiamo argomento, fa ancora discutere il nuovo polo logistico che dovrebbe nascere ad Alessandria Vicino alle case del villaggio Europa Superate le mille firme nella petizione che si oppone alla sua costruzione Inviata anche una mozione per fermare l'ultimo atto Quello della Commissione Tecnica Comunale dell'Edilizia Che oggi potrebbe autorizzare l'apertura dei cantieri De De Vinci Il progetto del nuovo polo logistico di via Don Bosco al villaggio Europa d'Alessandria Ritorna oggi all'attenzione generale non solo perché comincia l'esame della Commissione Edilizia del Comune di Alessandria Che è una commissione tecnica e non politica preseduta dal direttore urbanistico e patrimonio del Comune di Alessandria Ma perché questo sarebbe l'ultimo passaggio necessario e poi potrebbero essere aperti i cantieri Le forze di minoranza in comune che si oppongono a questa autorizzazione sono da tempo sul piede di guerra Forti del fatto che la provincia per due volte ha espresso parere contrario perché la variante al piano regolatore Non rispetterebbe il piano territoriale di coordinamento provinciale Proprio ieri la raccolta firme lanciata dalla minoranza partita qualche settimana fa Che si chiama Stop al polo logistico del villaggio Europa Ha superato quota mille firme sul sito specializzato in petizioni che si chiama change.org In sintesi chi firma la petizione chiede di fermare la costruzione di questo nuovo polo logistico Tra panorama e la casetta perché si prevedono camioni in manovra giorno e notte Ed un mega capannone tra campi sportivi, chiese e circoli anziani Inoltre la petizione continua con il villaggio Europa era una zona periferica tranquilla e verde E adesso qualcuno vorrebbe trasformarla in una zona industriale Infine è scritto ci sono aree migliori per questo tipo di insediamento Lontano dalle case, vicino agli svincoli autostradali Non a due passi da un quartiere residenziale Un'altra iniziativa di chi si oppone all'approvazione del piano esecutivo convenzionato Relativo al nuovo polo logistico di via San Giovanni Bosco È costituita da una mozione inviata a tutti gli organi interessati In cui si fa presente che l'approvazione del progetto non può avvenire Perché la pubblicazione sul bollettino ufficiale sul BU della Regione Ad oggi non è ancora stata effettuata Inoltre dieci consiglieri di minoranza hanno presentato ricorso al Presidente della Regione Chiedendo la sospensione dell'esecuzione e del suo annullamento Quindi per chi non vuole la realizzazione del polo Non esistono le condizioni e i presupposti giuridici ed amministrativi Perché la Commissione Edilizia del Comune possa autorizzarla Sembra proprio una tratta maledetta quella che collega Genova con Acquiterme In provincia di Alessandria da mesi protagonista di ritardi, cantieri e disagi quotidiani Ma a quanto pare il problema non riguarda né Trenitalia e neppure RFI E allora sentiamo Beatrice Agustaro E' diventato ormai un incubo il treno che collega Genova-Borzoli con Acquiterme Tra ritardi insostenibili e il sovraffollamento dei pendolari Che non riescono a trovare un posto libero sui vagoni E sono costretti a stare in piedi per tutto il viaggio Una pendolare ha pubblicato perfino un posto su Facebook per denunciare il fatto Ma da RFI, Rete Ferroviaria Italiana, tutto tace Perché chi dovrebbe fare qualcosa è Regione Liguria La prima responsabile di linee cancellate, cantieri e disagi di questo genere Ciò che manca sono i treni Ce ne sono pochi ed orari improponibili Secondo le opinioni di chi viaggia quotidianamente Sia per lavoro che per scuola ed università Il primo convoglio disponibile del primo pomeriggio è quello delle 14 Poi il nulla Bisogna aspettare il treno delle 16.31 Due ore e mezza di un'attesa che sembra infinita e insopportabile I rimborsi poi sono ancora un tasto dolente Perché secondo i dati non ci sono abbastanza reclami da parte dei pendolari Un fatto che non permette nemmeno di portare la causa alle istituzioni più alte Da RFI infatti questo sovraffollamento pare inesistente Insomma la situazione sembra proprio precipitata in un buco nero E l'episodio di ieri ne ha dato conferma Gli utenti hanno segnalato un ritardo di circa 20 minuti per il treno partito da Acqui Per lo sviluppo economico che dovrà valutare se e in che modo far sopravvivere Un'azienda che a Novi Ligure produce dal 1860 A 50 giorni dal termine della cassa integrazione Ma purtroppo anche a trasferire la maggior parte della produzione a Gorizia Dove è presente con una seconda sede Insomma da qualunque parte si guardi questa triste vicenda Pare proprio che il destino della Pernigotti sia ormai segnato Quello che è priorità è comunque che ci sia ancora spazio di trattativa Per mettere mano a quel piano industriale Tanto sbandierato nel tempo dai due fratelli Toxos Per riammodernare allo stabilimento novese con nuovi macchinari E poi sia di chi voglia essere il marchio L'importante è che tutto il cioccolato Continui ad essere sfornato in viale della rimembranza Dove avviene dal 1860 A oggi però tutto questo sembra ormai lontano E poiché i conti si fanno sempre con quello che c'è nel cassetto Ciò che sembra è che per i 70 dipendenti L'unica alternativa potrebbe essere proprio quella di continuare a lavorare A 500 chilometri di distanza da Novi Ligure Tutto dipende dall'esito della riunione romana E dalla forza che sapranno mettere le parti Impegnate ormai da alcuni anni Nella sopravvivenza di una dolce tradizione E ci spostiamo adesso nel Casalese Le difficoltà a reperire il personale necessario E i materiali per la disinfestazione antilarvale Stanno causando ritardi nella lotta Alle zanzare in alcune zone del Monferrato E ora i tempi per eliminare alcuni tipi di questi fastidiosi insetti estivi Diventano molto stretti Se ne ha occupato Fabrizio Mattana Nuvole di zanzare Non è più soltanto il titolo di una canzone tormentone dell'estate scorsa Ma quest'anno in particolare nel Monferrato L'invasione di fastidiosi insetti potrebbe diventare realtà Perché mentre nel resto d'Italia hanno già preso il via le operazioni di disinfestazione antilarvale Che dovrebbero garantire un'estate tranquilla Così non è stato, soprattutto nel Casalese Un ritardo prettamente burocratico Che a questo punto potrebbe compromettere la stagione Infatti nonostante lo stanziamento regionale di un milione e mezzo di euro A cui si aggiungono le risorse dei comuni Non sono stati ancora acquistati i materiali per la disinfestazione In quanto non tutti i comuni avrebbero aderito ad un progetto collettivo Mentre c'è anche difficoltà a reperire e a formare personale adeguato Ci sono state falle nella programmazione degli interventi Ed ora per eliminare alcuni tipi di zanzare I tempi rischiano di diventare davvero troppo ristretti Soprattutto nelle aree interessate da risaie Dove non è stato possibile neppure effettuare sperimentazioni Di nuovi prodotti biologici antilarvali Che dovevano essere attuati all'inizio della semina del riso Si potrà invece ancora intervenire sulla temutissima zanzara tigre Che è un ciclo riproduttivo più lento Ma si dovrà agire presto con il benestare della regione Anche perché in questo caso eliminare la zanzara Non significa solo allontanare un fastidio Ma prevenire la diffusione di malattie virali Come la cicungunya Che provoca i sintomi di un'importante influenza Un problema che diventa quindi anche sanitario E che in un periodo in cui la lotta contro i virus patogeni E all'ordine del giorno è senz'altro da evitare E dopo tante notizie non bellissime Rifacciamoci un po' parlando di teatro Ieri pomeriggio è stata ospite ad Alessandria Stefania Sandrelli Una delle attrici più amate del cinema italiano Per noi Beatrice Agustaro Ho sempre considerato il cinema come uno spartito musicale Ero libera sul set Non ho mai cercato di soffocare nessuno Con tre Davide di Donatello Su undici candidature e sei nastri d'argento Stefania Sandrelli rappresenta oggi Una delle più grandi icone del cinema italiano Elegante, allegra Sempre con quella risata in volto Che le ha permesso di lavorare a fianco Di celebri personalità degli anni 60 e 70 Bernardo Bertolucci Marcello Mastroianni Pietro Germi Sono alcuni con i quali La Sandrelli si è confrontata infatti La cosa più difficile per me Quando recitavo Era dover rinunciare a ridere Mi sono dovuta trattenere più volte Per non rifare le scene Per alcuni registi Era insopportabile Uno spirito il suo Che non è certo mancato Al teatro Alessandrino di Alessandria Che ha invitato l'attrice Per un incontro dedicato alla sua carriera Colma di successi Storie, ricordi E aneddoti Accanto a lei Steve Della Casa Direttore artistico del Torino Film Festival Roberto Lasagna Direttore artistico del Festival Adeglio Ferrero Cinema e Critica E Giorgio Simonelli Critico cinematografico e televisivo Sul palco non c'era però Solo Stefania Sandrelli C'era la passione E l'amore per il proprio lavoro Che le ha lasciato l'uccicchio negli occhi Il ricordo di una madre Che l'ha sempre spronata Ad accettare i ruoli che le offrivano Il colpo di fulmine per Adriana Il personaggio da lei interpretato Nel film di Antonio Pietrangeli Io la conoscevo bene Ma soprattutto Una grande consapevolezza Su ciò che il cinema mondiale Sta subendo oggi Provato da due anni di pandemia E che si ritrova a combattere Contro la cannibalizzazione Dei colossi come Netflix Amazon Prime E Disney Plus Se il cinema non si riprende ora La vedo molto dura Ha detto l'attrice Che ha anche ricordato Quello è stato il suo personaggio Che più l'ha rappresentata Allora Devo essere sincera E' un po' come in amore E' sempre l'ultima persona Quella più importante E' così nel cinema E' l'ultimo film che fai La festa patronale di San Pancrazio A Silvano Dorba Siamo sempre in provincia di Alessandria Ha preso il via con il consueto Raduno benefico di auto d'epoca Continuerà giovedì Con la processione Verso la chiesetta campagnola Dedicata al santo Dove sono in programma Numerose celebrazioni religiose All'evento inaugurale Dedicato alle auto e moto d'epoca Era presente per noi Maurizio Silvestri Ragazzi io ve l'avevo promesso E ci sono qui questa mattina Tantissima gente Tante macchine Sempre più belle Ma voi fate veramente Un raduno fantastico Si Diciamo Dobbiamo dire grazie A tutta questa gente Che partecipa Che ha creduto Anche nonostante Un po' brutto tempo Di venire anche quest'anno Per uno scopo benefico Ecco quello è importante Perché il raduno dell'auto E' bellissimo E' bello far vedere Alla gente I vecchi tempi Di quando si usavano Queste bellissime automobili Però questo è Diciamo L'incasso Questo che voi fate oggi E' a scopo benefico Per chi? Per la fondazione Ospidalette Di Alessandria Che darà La particolarità E il contributo Per un progetto Per l'ospedaletto Tantissimi sono i progetti In corso In questo momento E per la croce verde Ovadese E per la croce verde Ovadese Io parlo con Massimo Perché diciamo Mi appassiona Vedere quando racconta Un po' di questo raduno Però Massimo Quante già beneficenze Avete fatto? Tantissime in questi anni Dal 2003 Dal 2003 Pensiamo adesso A grandi linee Sui 40 mila euro Di beneficenza Non solo Alla fondazione Ospidalette Ma anche a tanti altri Che avevano bisogno Ecco Il sacrificio è tanto Dobbiamo dirlo Perché la preparazione Ci vuole tanto tempo Ci vogliono i manifesti Bisogna cercare gli sponsor Bisogna chiamare Tutta questa gente A venire qua sulla piazza Però quando la giornata Poi ha l'assoluto Alimento È un'altra È una soddisfazione È una soddisfazione Perché vedere Tutta questa gente Che capisce Cosa stiamo facendo Fa piacere E risponde Ogni anno Sempre di più Dopo due anni di pandemia Poi Pur essendo una brutta giornata La gente sta partecipando Da Fortunatamente C'è molta gente Sono contento Abbiamo riempito La piazza di là Di qua È pieno Sino in fondo Meglio di così Non potevo andare Guarda Allora Ci siamo fermati Quanto? Due anni Due anni Due anni Due anni Che non hanno potuto Nemmeno fare Della beneficenza Ma da oggi Si riparte di nuovo Al top Per un aiuto Agli altri E questo è il Diciasettesimo raduno Pensate un po' Diciasettesimo raduno Qua Silvano Dorba Ci vediamo alla prossima Grazie E con Maurizio Silvestri Invece vi potete vedere Tutte le mattine Dalle sette Alle nove Con sette mattina In musica Il risveglio Dal lunedì Alle venerdì Sempre Su questo canale Il canale 10 Telecity Sette gold Il nostro Maurizio Silvestri Vi accompagnerà In un risveglio Dolce Sotto le note Musicali Ma anche Con tante notizie E tante rubriche Per lo sport Parliamo invece Di pallavolo La gara Uno dei playoff Di serie B Tra Saronno E bollente Acquiterme Ha visto soccombere I termali Con un netto 3 a 0 Sabato Gli uomini di Negro e Astori Avranno la possibilità Di ribaltare Il risultato Nell'incontro casalingo Al Monbarone Tutti i particolari Tra poco Da Fabrizio Mattana Non mi resta che Ricordarvi anche oggi Il nostro appuntamento Abbiamo bisogno di te Il nostro numero Whatsapp Dedicato proprio a voi Che è il 348 662 7590 Per diventare Un nostro inviato Sul territorio Quindi se Vi trovate nel luogo Di un incidente Se avete delle notizie Che volete segnalarvi Oppure se c'è qualcosa Che non va Nella vostra città Bene Fotografatelo Scrivete due righe Il vostro nome e cognome E poi inviatecelo Noi valuteremo La notizia E poi la pubblicheremo Vogliamo anche Ringraziarvi Perché siete veramente In tanti A scriverci Nonostante il servizio Sia iniziato Veramente Da poche settimane Segno che Insomma La nostra emittente È sempre più attendibile E questo è ovviamente Lo scopo Con il quale Abbiamo proprio Aperto Questo nuovo servizio Per dedicarvi Tempo E per fare in modo Che ognuno di voi Ognuno dei nostri Telespettatori Possa avere La propria voce Bene La pagina sportiva Ci vediamo più tardi Arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti